Per la Puglia, nella programmazione 2014-2020, ci sono 12 miliardi di euro di investimenti tra fondi strutturali europei e risorse nazionali del Fondo Sviluppo e Coesione. Dopo sette anni di crisi in edilizia, occorre un'inversione di tendenza. Come? Facendo rete tra comuni e imprese costruttrici, con azioni tese a monitorare le risorse disponibili per gli investimenti dei comuni e velocizzare gli iter burocratici che ritardano la cantierizzazione dei lavori. Obiettivi è la base dei due protocolli di intesa, siglati a Bari dai presidenti Perrone di Anci Puglia, De Bartolomeo e Biancofiore di Ance Baribat e Ance Foggia. Il rapporto con i comuni è fondamentale per arrivare a portare progetti effettivamente esecutivi, per cui questo protocollo detta un po' le regole del rapporto tra l'associazione di categoria e i comuni. Queste opere devono rappresentare il volano per la ripresa dell'economia, che noi non ci stanchiamo di dire che in Italia passa attraverso la ripresa del settore delle costruzioni. Fondamentale per l'associazione dei comuni escludere i cofinanziamenti locali dal patto di stabilità. Ma alla base di ogni cosa possiamo mettere tutta la nostra volontà. Dobbiamo estrapolare la quota di cofinanziamento che i comuni dovrebbero dare dal patto di stabilità. È un impegno da parte nostra che è già in atto attraverso anche Anci Nazionale. Da una ricognizione delle opere cantierabili fatte da Ance risultano oltre 600 milioni di euro di interventi nei comuni della città metropolitana, 31 milioni quelli trasmessi dai comuni della BAT. Dati che ci pongono, ha detto De Bartolomeo, tra i primi in Italia ad aver avviato un celere percorso di collaborazione.